La cosa più bella oltre per me personalmente, oltre il loro ritorno, è il fatto che mi abbiano invitato a registrare con loro, forse il loro inno nazionale, che uscirà questa sera a mezzanotte. Ma prima voglio presentare Paolo Echiano! Buonasera! Ciao Bologna! Amori miei venite qua, prendetemi l'applauso, hanno capito da subito, andiamo al centro che vi devono vedere quanto siete belli. Colonia sulle mani per Paolo e Chiara! Io stavo spiegando a questi amici che voi mi avete fatto un regalo. Come i gamberi, vado... Se vuoi faccio io così. L'amore va veloce e io vado indietro. Cita anche le mie canzoni, io non posso farle. Io parlo citando le tue canzoni. Allora, quando, innanzitutto, buonasera, è bello vedervi. Quando mi avete invitato a cantare con voi e a preparare questa sorpresa, io un po' non ci credevo, perché penso che questo sia uno dei pezzi più iconici della storia della musica italiana in generale. Poi è chiaro che ha rappresentato tanto e tante, tante lotte, tante rappresentanze, eccetera, eccetera. Però è semplicemente uno dei pezzi più belli, più forti e memorabili della musica italiana. Io non so neanche se devo annunciarlo. Porterei al centro i miei grandi amici. State aspettando, che ne credete? Mazza, come siamo grandi! Ciao! Ragazzi, questa sera, da mezzanotte, su tutte le piattaforme, ci saranno Paola, Chiara, la base di... Perfetto, 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 Perfetto! Le amici di Gabriele Ponte, insieme al vostro amico Tiziano, che è Vamos a bailar! Pregaael! Pregaael! Let's do it! Grazie! 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 Grazie!